Ma chi è l'allenatore in prima e chi è in seconda? In prima elementare è io, lui in seconda perché è più grande, sono più bello! Stanno facendo solo girare la palla? Ha fatto un tiro eh! Anche un po' le palle! Dice, ci chiede, come fa la squadra ad essere credibile con due allenatori così? Viagra! Sempre con la via! Non siamo credibili ma incredibili! Siamo incredibili! Contro gli insuperabili! Capisci anche il gioco di parole! Incredibili, insuperabili! Due poeti! Giacomo Leopardi e Sapatone Quattimolo De Noa!